Grande fratello, Enzo Paolo Turchi fa spoiler su un nuovo concorrente? Lui deve entrare Il ballerino è uno dei concorrenti più amati dal pubblico del reality show e potrebbe aver svelato il prossimo geffino che varcherà la Porta Rossa Durante la seconda puntata del Grande fratello, Alfonso Signorini ha spiegato ai concorrenti che, nelle prossime settimane, saranno raggiunti da altri nuovi geffini Il conduttore ha detto, Inquilini come vedete la casa si sta arricchendo di nuove presenze. Siete parecchi oramai? Vi dico già che non è finita qui e che ci saranno altri geffini. Il gruppo non è ancora quello finale. Vi avviserò io quando sarete al completo e sarò chiaro su questo Alfonso non ha rivelato nulla di più ma Enzo Paolo Turchi potrebbe avere spoilerato il nome di un personaggio che potrebbe presto varcare la Porta Rossa Le parole di Enzo Paolo Turchi Ieri, venerdì 20 settembre, Enzo Paolo Turchi, Shai Lagatta, Eleonora Cecere e Amanda Lecciso erano in giardino a parlare e il ballerino stava raccontando della sua scuola di danza, della voglia che ha di aiutare le persone, io voglio che mia moglie sia sempre felice, gioisco se chi mi è vicino è contento La mia vita è sempre stata questa perché io sono un altruista. Quando vedo la gente la voglio felice, ve lo giuro Sono uno che vive anche della gioia degli altri. Ho sempre vissuto così Enzo Paolo, però, si è fatto scappare quello che potrebbe essere considerato uno spoiler e ha detto, io ho creato i primi ballerini, quando io ero primo ballerino li prendevo e li mettevo vicino a me e li aiutavo Li portavo io a lavorare. A Luca, Luca Tommassini, l'ho preso a nove anni. Luca deve venire pure lui qui dentro deve entrare. Sarà davvero così? La sensibilità di Enzo Paolo Turchi Al momento, Enzo Paolo Turchi è uno dei concorrenti preferiti dal pubblico, è sempre disposto ad ascoltare, dà tanti consigli ai ragazzi più giovani e, soprattutto, dimostra grande empatia e sensibilità Nei giorni scorsi, stava raccontando il suo amore per la moglie Carmen Russo e la loro bambina Maria e ha spiegato Noi a casa abbiamo tutte le foto del matrimonio e un giorno Maria guardandole ci ha detto tutti vi hanno visto sposarvi e io no e io le ho detto e che problema c'è? Possiamo risposarci e io e Carmen ci siamo risposati per la seconda volta